Un cordiale saluto amici del 21.it da parte di Simone Sperduto, un bel ritrovati, siamo qui oggi alla nuova Fiera di Roma dove c'è la settima edizione del Festival dell'Oriente, una kermesse davvero ricca di eventi, di stand per conoscere quella che è la cultura orientale a 360 gradi. Una quattro giorni, quindi da 30 a 31 maggio, 1 e 2 giugno, in questa splendida location che è la nuova Fiera di Roma dove potrete trovare oltre agli stand di cucina tipica delle varie culture orientali anche attrazioni, eventi che riguardano anche il mondo delle arti marziali e quindi davvero una bella iniziativa che invitiamo ad andare a visitare anche nelle altre location che ci saranno in seguito, oltre a questa settima edizione qui romana. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.